è vero? dobbiamo arrivare a NEMICO DI FRONTE c'è un cazzo di c'è un matto verde ora gli faccio una mossa col sims qui scialo qui per pollegia dell'altra la mossa del simp wow mi corre ora non ho tanto più oddio è questo? operatore ostile è lui è lui mi stanno sparando Dio me da salvare Dio me vamo sono pronto exodus